ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovissimo video come state mi auguro alla grande allora prima di cominciare insomma ci tengo a ringraziare di cuore tutti i vecchi e di nuovi iscritti grazie 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 veramente di cuore grazie per i like grazie per i commenti che mi lasciate e niente se volete continuare a supportarmi io insomma vi chiedo se vi fa piacere di continuare ad iscrivervi a mettere tanti like e a lasciare un commento allora oggi perché siamo qui oggi video casalingo oggi video insomma oggi siamo nella mia rubrica desperate housewife e quindi che cosa vi mostrerò vi mostrerò tutti i prodotti che ho terminato per la cura della casa e del bucato di tre mesi quindi tutto dicembre gennaio e febbraio già sono passati tre mesi dall'ultimo video ho accumulato tantissime cose e quindi mi sono detta è ora di registrare questo video e io direi di ripartire subito allora la prima cosa che vi faccio vedere anche perché guardate ho messo tutto in uno scatolone e quindi sta straripando allora ho terminato come detersivo piatti ne ho terminati due e che sono della v5 da un litro e mezzo questi qui li ho presi insomma sono dei detersivi piatti che ho preso da lidl mi ricordo ancora che li avevo pagati 55 centesimi l'uno un litro e mezzo di prodotto che cosa dire di questi detersivi piatti come ben sapete io non ho la lavastoviglie lavo tutto con le mie mani e allora il detersivo è un po liquidino questo ci tengo a dirvelo ma carino cioè nel senso comunque mi è piaciuto potrei anche riacquistarlo perché la cosa che più mi è piaciuta di questo detersivo ovviamente è la profumazione al limone che è buonissima fa il suo lavoro dovete mettere un po di detersivo in più però un litro e mezzo 55 centesimi ci sta insomma e quindi terminate due confezioni mi scuso se sentite dei rumori ma quando registro è sempre così quindi mi auguro insomma che questo video abbia pochi rumori poi ho terminato queste tre spugnette della scotch bright due più una erano e una aveva diciamo il sopra della spugnetta che serve diciamo per grattare una era sul sul violetto e quindi erano due normali quindi verdi e quella lì diciamo che doveva essere due volte più efficace che dire di queste spugnette questo me l'aveva presa mia mamma e mi sono piaciute devo dire che hanno fatto il loro e sono anche belle resistenti ecco mi durano anche un po non sono proprio di quelle use getta poi ho terminato anche queste spugne diciamo assorbenti della v5 erano fatte non di panno quelle un po gommose erano un po in gomma che dire sempre nel marchio v5 questo qui dice di essere 100 per cento diodegradabile quindi sempre prese la lidl vi posso dire carine insomma fanno il loro asciugano cioè io utilizzo proprio per pulirci il tavolo per asciugare il lavello i sanitari quando devo fare una doppia passata insomma diciamo sono questi panni in gommosi ecco carini l'ho pagato i popoli potrei anche riacquistare perché no niente di così eccezionale declatante però insomma hanno fatto il loro poi una cosa che non vi ho mai mostrato finora sono i fazzoletti per pulirsi il naso allora stavolta voglio menzionarvi questi fazzoletti perché mi sono piaciuti tantissimo non si trovano sempre da sempre da lidl e sono questi della floralis al profumo di gelsomino e aloe vera infatti c'è scritto jasmine ed aloe vera buonissimi erano 24 pacchetti per dieci fazzoletti all'interno e devo dire che mi sono piaciuti tanto anche perché uno profumano e due sono resistenti per cui se dovesse insomma ritornare questa linea da mauris io scusate di da lidl io ve la consiglio poi vediamo un po cosa ho terminato un detersivo per i pavimenti un detersivo per i pavimenti che mi è piaciuto tantissimo della spicca e span questo qui era un litro di prodotto ed era al marsiglia e al muschio bianco sapete il mio amore smisurato per il profumo di marsiglia e questo mi è piaciuto davvero davvero tanto vi consiglio diciamo i detergenti per i pavimenti insomma di spicca e span anche perché ci sono varie profumazioni quindi potete sbizzarrire e questa mi è piaciuta tantissimo perché io oltre a metterla nell'acqua tiepida quando devo detergere i pavimenti poi l'oggetto direttamente anche poi all'ultima passata di asciugatura proprio sul pavimento per farlo sentire ancora di più e dura comunque per tutta la giornata il giorno dopo ancora lo avvertite questa cosa mi piace tantissimo per cui me lo risento prima di buttare la confezione perché è un detersivo per i pavimenti che mi piace davvero davvero tanto poi vediamo cosa vi faccio vedere come profumatore per l'ambiente e che avevo nel corridoio ho terminato questo qui che mi avete già visto altre volte e altre volte insomma nei finiti in un'altra profumazione questa qui era al limone di sicilia sempre preso da lidl e pagato 1 euro e 49 io vi dico insomma di buttare un occhio ho terminato insomma solo questo qui perché poi diciamo profumo l'ambiente anche con candele che non ho terminato allora terminato un gel anticalcare di risparmio casa questo un formato da 750 ml carino un proprio un prodotto senza infamia senza lode pagato poco che utilizzo per pulire insomma le superfici come può essere il lavello i rubinetti insomma dove c'è quel calcare più incrustato ecco consigliato anche per pulirci il box doccia insomma a mille utilizzi e niente carino non potrei anche riacquistarlo solo che diciamo risparmio casa come negozio casalinghi mi dista un po quindi quindi non potrei insomma non lo riacquisterei a breve però se ci dovessi capitare perché no poi altro prodotto sia della casa ho terminato questo ajax con candeggine questo è un formato da 750 ml che dire qui dice igienizza pulisce e sbianca sì questo è un prodotto che mi piace tantissimo lo utilizzo soprattutto per il piano cottura ma anche per igienizzare i sanitari perché poi avendo comunque la candeggina ha proprio insomma questa azione igienizzante ecco ci pulisco insomma ci pulisco anche la vasca ci pulisco di tutto mi piace qui dice efficace cento per cento brillante tutto vero ci pulisco il tavolo ci pulisco di tutto e di più io ajax ve lo straconsiglio insomma come detergente insomma per pulire la casa è top 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 me ne vedete solo uno ma voi dovete anche sapere che ovviamente io metto di mezzo più detersivi ma abito da sola in casa quindi sporco anche meno ecco quindi c'è da dire anche questo poi sempre come pulizia per la casa perché poi non vorrei dire quasi già finito tutti poi prodotti per la lavatrice allora ho terminato questo acido muriatico del marchio consiglia che io trovo ai supermercati il castoro allora io l'acido muriatico lo utilizzo quando voglio sbiancare rendere immagolato il mio pc io utilizzo anche insomma gel detergenti per il pc ma come ve lo rende immagolato l'acido muriatico nessuno mai insomma secondo il mio punto di vista questo non mi ricordo quanto l'ho pagato ma comunque poco carino mi è piaciuto anche perché faccio anche fatica a trovare l'acido muriatico vi devo dire la sincera verità non lo trovo in tutti i negozi ecco lo devo dire quindi lo compro insomma un po dove capita insomma poi io direi che sì adesso abbiamo tutto il reparto che io amo di più perché amo insomma mischiare gli odori per vedere le profumazioni per vedere poi i miei capi di che cosa profumano ma prima di passare a ciò vi faccio vedere quello che ho utilizzato intanto per igienizzare la mia lavatrice sempre questo un washing machine cleaner con una fragranza fresca di v5 vi ho detto che ne avevo comprati assai è carino non mi dilungo perché è un prodotto che praticamente mi vedete tutte le volte che giro il video dei prodotti finiti per la cura della casa e del bucato e niente carino ecco sicuramente c'è di meglio ma questo io lo comprai in bipacco ad un euro e 99 so che i prezzi adesso sono aumentati e credo che questo non si possa neanche reperire io ne ho altre referenze e quindi diciamo che le utilizzerò ecco tutte ovviamente poi sempre per quanto riguarda la lavatrice perché l'acqua di roma è molto calcarea come vi dico sempre quindi io metto sempre un prodotto anticalcare all'interno e questa volta io ho utilizzato il bicarbonato di sodio questo qui gemma di mare questo è un prodotto che mi era arrivato in una degusta box e ovviamente a mille usi però io l'ho utilizzato questi hanno 500 grammi direttamente come anticalcare insomma per la lavatrice ad ogni lavaggio proprio nel nel cestello dove metto il detersivo per il bucato ecco mi ci sono trovata bene ha fatto il suo quindi straconsignato ma potete comprare anche dei bicarbonati di sodio più economici perché a me capita di farlo e pure mi ci trovo bene ecco poi adesso passiamo a tutto il bucato intanto ho terminato anche questo napisan che è un additivo disinfettante che disinfetta smacchia elimina odori attivo già 30 gradi con azione antibatterica questo era una sorta di campione che mi era stato regalato perché sono 100 grammi sì e mi piace ora il napisan è un prodotto che mi piace tantissimo perché veramente diciamo igienizza insomma fa questo effetto igienizzante su tutti i vestiti io me ne accorgo mi sento comunque più prudenta quando c'è l'additivo igienizzante vi devo dire la verità ecco faccio effetto meno sono più tranquilla nell'utilizzarlo quello sì per cui io vi strago consiglio anche di provare insomma il napisan qualora non l'aveste provato come additivo disinfettante ma veniamo a noi allora come detersivi ne ha finiti un bel po' e dopo aver disinfettato la lavatrice lungo e largo passiamo insomma ai prodotti proprio per lavare il bucato intanto terminato questo sciogli macchia sgrassatore pretartante concentrato della chanteclair questo qui è un formato da 375 ml mi è piaciuto tanto questo qui io ve lo straconsiglio agisce anche da solo però io lo potenzio sempre anche con un altro prodotto che vedrete insomma più in là però devo dire che fa il suo ecco però ecco quando ci sono quelle macchie un po più ostinate come no in quei momenti in quei periodi insomma di ciclo io comunque lo tendo a rinforzare pare tendo a rinforzare insomma questo prodotto perché insomma io sono solo una che lascia il segno ecco mettiamola così allora e invece adesso passiamo proprio ai prodotti che ho utilizzato per la lavatrice ho utilizzato un bel po di cose e la prima cosa che vi faccio vedere ma sono praticamente lo stesso detersivo in due packaging diversi ma ora il negozio lo troverete in un altro packaging ancora di che cosa sto parlando allora del soft questo è il detersivo soft ed è da 2250 ml due litri due litri due litri 250 ml e questo qui è più concentrato con ezzini attivi efficace già 40 gradi e qui dice sensual argan 45 lavaggi non so quanti ce ne abbia fatti quindi però che dire è un prodotto carino che acquisto comunque volentieri perché questo è uno di quei detersivi che non ha subito grandi variazioni di prezzo ok soprattutto pure quando vai in offerta massimo 1,99 euro comunque un prodotto che trovate vi faccio vedere anche l'altro come potete vedere sempre il soft e questo qui invece è da due litri e mezzo l'unica cosa che hanno variato sicuramente il formato che hanno ridotto ecco ma questa cosa ormai ce ne stiamo accorgendo sempre di più perchè questa è la versione prima ed è sempre con olio di argan l'abrecomazione è identica cambiano solo i packaging e carino io ho detto c'è nel senso questi li compro volentieri perchè comunque fanno il loro non eccessivamente però ancora sono abbordabile insomma come prezzo e quindi mi capita di di acquistarli poi ho terminato anche un detersivo questo qui dice per bucato a mano della clean clean è un marchio che rivende il tuo di quindi il discount qui dice bucato a mano ma io l'ho utilizzato in lavatrice sono 900 grammi e devo dire che qui mi dice senza fosfati e a me devo dire che mi piace mi è piaciuto ha lavato bene e quindi vi straconsiglio anche questo marchio anche perchè io ho altro ho un altro detersivo in polvere di questo marchio qui e io in genere anche se non mi vedete sempre prodotti in polvere io li alterno sempre ok non utilizzo c'è la mia lavatrice non utilizzo solo il detersivo liquido ma vado ad alternare anche con quelli in polvere e niente quindi mi è piaciuto poi sempre come detersivo per la lavatrice ho terminato anche questo qui da un litro e mezzo sono lana e delicati del marchio must che potete trovare da mauris io di questi avevo provato quei flaconi giganti da 4 litri che vi avevo fatto vedere che non mi era tanto piaciuto questo qui da un litro e mezzo che mi dice a mano e lavatrice devo dire che mi è piaciuto tanto questo mi è piaciuto era più concentrato ha fatto il suo profumava benissimo e mi lavava bene gli indumenti ecco me li anche teneva belli morbidi anche se per questo diciamo utilizzo l'ammorbidente però devo dire che questo qui è un detersivo che mi è piaciuto davvero tanto l'ho utilizzato principalmente per insomma maglioni di lana però anche capi come dice qui proprio il terra insomma come si dice anche qui anche per i delicati non è che perché non erano di lana non li abbia utilizzati ecco anche perché veramente la profumazione è davvero davvero buonissima invece per ammorbidire gli indumenti ho utilizzato dei ammorbidenti che sono per me dei must have intanto uno di spuma di champagne perché sapete che sono piena di spuma di champagne anche perché è un detersivo che mi piace davvero davvero tanto questo è in un pack che non potete trovare ma diciamo che di spuma di champagne alla vaniglia ne trovate insomma esiste ancora e questo qui era da un litro 560 ed era vaniglia e sandalo spettacolare un ammorbidente davvero spettacolare una profumazione che è un profumo non è un ammorbidente ok quindi spettacolare mi è piaciuto tantissimo tutti quelli che vi mostrerò perché ne ho altri due di ammorbidenti sono favolosi io spuma di champagne ve la promuovo sempre anche se mi vedete questi packaging un po' vecchi ma perché veramente quando andavano in offerta poi questi formati non esistono più ne ho acquistati tanti e ho fatto veramente bene perché chi se l'aspettava che cioè ci fosse proprio il boom dei rincari altro grande grande amore e credetemi sono piena di questo marchio nelle mie scorte è il lenore per me il lenore davvero è un must have mi piace troppo perché vi ammorbidisce veramente i capi e anche questo cioè veramente le profumazioni rimangono a lungo sugli abiti e questa cosa mi fa impazzire e questo era lavanda e camomilla buonissimo credetemi davvero un profumo eccezionale buono 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 quindi lenore super promosso un altro amore sempre super promosso è questo qui questo morbidente concentrato da 750 ml di faboloso questo qui per pelli sensibili è testato dermatologicamente tipo allergenico con latte di mandorla dolce questo ammorbidente è uno spettacolo davvero uno spettacolo e io ve lo straconsiglio c'è tre ammorbidenti utilizzato uno più buono dell'altro anche perché diciamo che il soft rimane come detersivo rimane molto delicato sui capi ok non mi dispiace però poi andavo a rinforzare il depressivo ovviamente con questi ammorbidenti super top e niente io direi che la mia carrellata di prodotti terminati per quanto riguarda la cura della casa e del bucato finisce qui fatemi sapere se anche voi avete utilizzato insomma questi prodotti se me ne consigliate insomma degli altri insomma consigliamoci e niente io come sempre vi chiedo se vi fa piacere di iscrivervi al canale di lasciarmi tanti like e di commentare questo video e niente come sempre lo sapete io vi mando un mega bacio e alla prossima se vi va ciao 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 ciao